COMBATTI IKALOS Ottima scelta, guardiano! I miei ultrapoteri e la tua disciplina glaciale ci faranno avere la meglio su questo guerriero mezzo? Onda gelida impetuosa! Wow, che succede? Il suo attacco accelera ogni volta che colpisce le pareti di ghiaccio A IKOR serve una concentrazione sempre maggiore Splendida tecnica, guardiano! Hai dimostrato la tua padronanza del livello 2 con grande abilità Onda gelida! Sì! Sì! Urrà! Combatti IKALOS Poteri meca? Troppo forte KRIPTUS Lampo glaciale! Questa sì che è precisione Cosa? PRISMA ESCULA! Ma tutto bene, KRIPTUS Dovevo soltanto tenerti occupato per qualche istante Concentrazione! Concentrazione! Lampo glaciale! Aspetta, KRIPTUS Aspetta, KRIPTUS Aspetta, KRIPTUS Tikor, sei stato fortissimo! È stato grandioso! È stato coordinato molto precisamente La precisione è grandiosa Precisamente? Solo i glaciali riescono a rendere la grandiosità noiosa GORMITI 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 Raggiungibili Chi mi fermerà The legend is back The legend is back GORMITI 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 GORMITI